Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Filippo. Oggi video abbastanza veloce, inerente alla distribuzione di questa Giulia 2.2 Turbo Diesel. In realtà questo non è un tutorial per la sostituzione della cinghia di distribuzione, ma è solamente un controllo che faccio alla mia macchina, macchina che ha circa 80.000 km, la cui cinghia di distribuzione è prevista la sostituzione a 100.000, o entro massimo 5 anni. La macchina, anche se non ha tutti i chilometri necessari per la sostituzione, ormai ha 5 anni, quasi, e allora volevo dare una piccola controllata. Il panno che vedete qui l'ho messo esclusivamente per tappare l'aspirazione che va poi alla turbina, e qui abbiamo la nostra cinghia di distribuzione. Quello che volevo controllare, una volta aver rimosso il condotto di aspirazione, posto qui, e la sua copertura, quindi questa qui, è che non ci siano delle crepe o comunque sia eventuali segni di usura della cinghia. Come vedete la zona è abbastanza polverosa, poi provvederò a dare una ripulita. vedete anche qui, comunque sia questa è tutta usura chiaramente che ha la cinghia, quindi polvere che si crea appunto con la rotazione della cinghia stessa. Cinghia che sembra in buono stato, che comunque sia provvederò al raggiungimento dei chilometri alla sua sostituzione. e cosa molto importante altrettanto che la cinghia è la pompa dell'acqua posta qui. Perché la pompa dell'acqua? Perché può capitare che diciamo a raggiungimento dei chilometri per i quali diciamo si effettua la sostituzione della cinghia, ci possono essere dei trafilamenti proprio di liquido refrigerante dalla pompa stessa. liquido refrigerante che si nota in maniera abbastanza evidente perché provoca appunto delle croste vere e proprie attorno alla pompa, cosa che qui come potete vedere non ci sono. La pompa fa perfetta tenuta con la testa del motore, quindi ottimo così. Allora piccola nota pratica e generale su questo motore inerente alla distribuzione. Guardate quanto spazio c'è tra il pacco radiatore, il gruppo ventola appunto e il motore stesso. Quindi molto spazio per operare per fare la cinghia di distribuzione. E questa è una cosa buona. Unica nota invece abbastanza negativa è che per la 210 cavalli e avendo l'intercooler non più aria-aria quindi posizionato qua sotto nel gruppo radiatori è posizionato un intercooler aria-acqua proprio qui davanti. Quindi tutto questo spazio che abbiamo qui viene a mancare per fare la distribuzione sulle versioni da 210 cavalli o comunque sia le versioni che vengono definite full, quindi doppie GR, doppio circuito di raffreddamento e quant'altro. In quel caso lì per fare la distribuzione va smontato appunto l'intercooler posizionato in quella posizione lì. Tutto questo spazio è dato, vedete, dall'arretramento del motore dove è posizionato, posizionato dietro l'asse delle ruote. Questo chiaramente scelta dovuta a un miglioramento di quelle che è la dinamicità del mezzo ma comunque sia anche a livello pratico operativo per fare la cinghia di distribuzione e operare su questa risulta vantaggioso. Allora, visto che ci siamo, due parole veloci su quello che abbiamo davanti. Questa è la puleggia dell'albero a camme. Gli alberi a camme su questo motore sono due, chiaramente, 16 valvole. La puleggia però è una singola proprio perché la cinghia, diciamo, aziona un solo albero a camme poi tramite una serie di ingranaggi posti qua dietro, uno qui e uno qua l'albero a camme, diciamo, azionato dalla cinghia trasferisce il suo moto all'albero a camme adiacente. Poi, come dicevamo prima, pompa dell'acqua un semplice rullino e pompa alta pressione CP4 appunto per il gasolio. Il tendicinia lo abbiamo lì sotto ora non si vede e poi, chiaramente, infine, laggiù in fondo c'è la puleggia dell'albero motore. Infine, come ultima cosa per concludere il video un accenno, diciamo, a quello che è la sostituzione del filtro blow-by quindi il separatore dei vapori dell'olio posizionato dietro il tendicinia della cinghia dei servizi praticamente è qui dietro lo si cambia, diciamo, ogni volta che si fa la distribuzione ed è molto importante molto importante perché vedete cosa succede quando si arriva, diciamo, al chilometraggio quasi per fare la cinghia inizio, io perlomeno in questi 80.000 chilometri non mi si era mai imbrattato il filtro dell'aria e ora sta iniziando, vedete, seppur in maniera, diciamo, minima qualche alette poi comunque sia non è assolutamente in maniera invasiva però sta iniziando un minimo imbrattamento del filtro aria quindi è necessaria quando farò la distribuzione andare appunto a sostituire anche il filtro blow-by ragazzi, come sempre un saluto e ci si vede al prossimo video ciao